Quarta settimana Quarta settimana Extreme Challenge Extreme Challenge La settimana dove I bandituri, i capaci I volenterosi Quelli che hanno costanza Quelli che hanno perseveranza riescono Vuoi essere vincitore? E allora datti da fare E l'ultima settimana Sette giorni, sette giorni Dico sette giorni per poter vincere Il premio finale Sarai tu l'Extreme Challenger?